Il centro sportivo Lambrone di Erba si rifà in look. Il nastro verrà tagliato il 31 ottobre prossimo, ma il nuovo aspetto del centro è stato presentato ieri dal sindaco di Erba Marcella Tili. I lavori sono iniziati il 16 dicembre dello scorso anno e il termine era stato previsto per marzo 2014, ma il cantiere è addirittura in anticipo. La novità più interessante è la costruzione di una nuova area a nuoto con piscine interne ed esterne e di una zona benessere con vasca termale per la riabilitazione fisica. Sono stati riqualificati i campi da gioco, la pista d'atletica e il campo di tiro con l'arco. Il centro sportivo che sorge nella vasta area del parco regionale della Valle del Lambro è stato pensato e costruito prima di tutto per le famiglie, ha spiegato il sindaco Tili, e per promuovere lo sport a tutti i livelli. Il progetto dell'architetto Il Defonso Ghezzi è stato finanziato da Banca Intesa San Paolo. La Lambro One, società fondata ad hoc per la riqualificazione degli impianti e presieduta da Roberto Molteni, si avvalsa della collaborazione del sostegno economico di importanti aziende italiane e leader nel settore dello sport. Le piscine saranno dotate di molti accessori tecnologici come il Virtual Trainer, una serie di luci a LED multicolore posate sul fondo della vasca olimpionica. Gli atleti professionisti potranno così programmare il loro allenamento a terra e una volta in acqua dovranno seguire le spie luminose per modulare la velocità e gestire i tempi e le distanze. L'impresa è costata 9 milioni di euro, l'80% dei quali sarà coperto da capitali privati grazie al project financing, una forma di partenariato pubblico privata. Sarà la sport, nuoto e fitness a gestire l'impianto sportivo e a pagare le rate del mutuo, previste tariffe agevolate per i residenti di erba. Il centro sportivo assumerà 30 dipendenti.